Marco 16, preghiamo e poi guarderemo insieme questo capitolo. Ora trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo, e Salome acquistarono degli aromi per andare ad imbalzare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levarte il sole e dicevano fra di loro chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro? Ma alzando gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, sebbene fosse molto grande. Entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto, che sedeva dal lato destro, vestito di bianco, e rimasero spaventate. E gli disse loro, non vi spaventate, voi cercate Gesù, il Nazareno, che è stato crocifisso e risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto, ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là dove vedrete come vi ha detto. Ed esse uscite prontamente fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremore e stupore e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la Tua parola, grazie che è vivente, potente, Signore. Signore, vogliamo leggere, considerare adesso la Tua parola non come un libro qualsiasi, ma come la Tua parola, Signore, che Tu possa veramente compiere la Tua opera in noi, attraverso di esse, Signore, che Tu ci possa compungere, insegnare, correggere se c'è bisogno, Signore, ma anche edificare, esortare, confortare, consolare, Signore, sappiamo che Tu operi per mezzo del Tuo Spirito tramite la Tua parola. Quindi, invitiamoci, apriamo a Te, Signore, insegnaci, parlaci stasera. Come abbiamo cantato, abbiamo sete di Te, abbiamo fame di Te, e quindi, sì, preghiamo tutto questo nel nome di Gesù. Allora, la risurrezione, vediamo che questo succede, ci sono le donne che vanno il primo giorno della settimana. Gesù non è risuscitato a caso nel primo giorno della settimana, però, perché la sua risurrezione è come è un nuovo inizio, è il nuovo inizio, se lo posso dire, e quindi lui è risorto nel primo giorno apposta per parlare di questo nuovo inizio. Vediamo che le donne andavano molto presto, ma Gesù era già risorto, ok? Si erano svegliati presto, però Gesù era già vivo, già tornato in vita, già risorto. Loro si preoccupavano di una cosa, avete notato? Della pietra, la pietra era molto grande e si erano preoccupate, come faremo a spostare questa pietra? Non so che piano avevano in mente, sono andate e avevano questa preoccupazione. Arrivano là e non c'era più, è stata spostata. Penso che anche noi siamo simili, no? Capita che noi ci preoccupiamo di cose a cui Dio ha già pensato. Noi diciamo, ah, Signore, ma... Invece arriviamo e Dio aveva già spostato la pietra. Tante volte siamo noi, ci preoccupiamo di tante cose quando scopriamo che Dio ci ha già pensato. Matteo 6, 8, dice il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che Dio le chiediate. Amen. Dio sa già i nostri bisogni e tante volte, prima anche che noi facciamo il primo passo, Dio ci ha già pensato. Però è bello pure perché nonostante queste impossibilità, loro andavano comunque. Non lo sapevano di trovare là una pietra, pensavano che fossero davanti alla tomba, però non restavano a casa. Non dicevano, vabbè, c'è la pietra, quindi non ha senso andare. No, loro hanno detto, c'è la pietra, vediamo se c'è qualcuno che ce la può spostare, però andavano comunque. E penso che anche noi possiamo chiederci, abbiamo anche noi questa stessa fede di dire, non so come sposteremo la pietra, però andiamo comunque. Anche se non sappiamo come arriveremo, come sarà quando arriviamo, possiamo dire, ok signore, io compito in te che tu ci penserai alle cose, agli ostacoli insomma, che avrò nella vita. Vediamo poi che si sono spaventate, si capisce perché, pensavano di trovare Gesù, invece c'è questo giovanetto che si è seduto là, un angelo, come ci viene spiegato negli altri Vangeli. E lui dice, Gesù è risuscitato, Gesù non è qui, amen? Gesù non è più nella tomba, è risorto. E vogliamo riflettere un attimo su cosa vuol dire per noi questo fatto che Gesù è risorto, Gesù è vivo. Mercoledì scorso abbiamo visto quello che Gesù ha detto sulla croce, Adam ci ha fatto vedere, diciamo, le sette cose che Gesù ha detto mentre era sulla croce. E uno, diciamo in particolare, mi colpisce sempre, è compiuto, come Gesù ha detto è compiuto, ok? Quindi nella croce Gesù ha detto è compiuto, ma vediamo qui nella sua risurrezione l'angelo dice altre due parole, è risorto, ok? E devo dire che queste quattro parole sono fondamentali nella nostra fede, ok? E' compiuto e Gesù è risorto. Queste quattro parole, molto semplici, però sono fondamentali. Il fatto che Gesù ha detto è compiuto vuol dire che era il sacrificio perfetto, che non c'è niente da aggiungere a quello che lui ha fatto per poterci salvare. Chi crede in Cristo è giustificato, punto, basta. Niente più deve essere aggiunto. Quindi Gesù ha detto è compiuto, però adesso vogliamo considerare cosa vuol dire il fatto che Gesù è risorto, ok? Perché sono un po' diverse queste due cose. Gesù ha compiuto tutto, però adesso è risorto. E vuol dire che c'è nuova vita in Cristo. Quindi i nostri peccati sono stati cancellati sulla croce, ma la risurrezione vuol dire che anche noi possiamo avere nuova vita in Lui. E questo è vero perché non siamo soltanto giustificati o perdonati in Cristo, vero? Tutto quello è vero e serve perché il nostro peccato ci separa da Dio. Però siamo anche vivificati in Cristo. E quindi Cristo è morto ed è risuscitato. E giriamo un attimo in Romani, capitolo 6. Romani 6, Paolo spiega proprio questa cosa. Leggiamo la versetta 1. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati batteggiati in Cristo Gesù siamo stati batteggiati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Quindi Paolo spiega proprio questa cosa. Siamo stati sepolti affinché anche i nostri peccati fossero sepolti, però siamo risorti, vivificati in nuova vita, affinché anche noi camminassimo in novità di vita. Andiamo avanti, versetto 5. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero del peccato. Quindi sta spiegando che Gesù doveva morire in modo che anche noi potessimo morire, anche il vecchio uomo, anche il peccato potesse morire. Poi, in modo che potessimo risorgere in nuova vita, versetto 8. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto, è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù nostro Signore. Potremmo anche leggere avanti, se dopo volete leggere avanti, però Paolo lo rende chiaro. Noi siamo uniti a Cristo sia nella morte che nella risurrezione. Servono tutti e due. Dovevamo mettere a morte il peccato, però dobbiamo anche vivere nello spirito. E quindi torniamo adesso in Marco 16. Vediamo che l'angelo dice alle donne, non è qui, è risorto. E poi cosa dice? Andate a dire anche agli altri, andate a spargere questa buona notizia di Cristo ai discepoli. vediamo che loro vanno, però qual è il loro, diciamo, status emotivo mentre vanno? Avete notato? Esse uscite prontamente fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremore e stupore. Non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Interessante, cioè, se io avessi scoperto che Gesù fosse risorto, penso che sarei stato contento, felice, cioè, io stavo piangendo, facendo cordoglio per Gesù. Invece vediamo questa paura. Ed è interessante. vogliamo guardare qualche versetto in questo Vangelo, il Vangelo di Marco, di capire come Marco, diciamo, descrive la paura, per capire che tipo di paura è veramente. Giriamo un attimo in Marco 4, 35. Marco 4, 35. Ora, in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro, passiamo all'altra riva. E licenziata la foda, lo presero con sé, così com'era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. E si scatenò un gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa, su un guanciale, ed essi lo destarono e gli dissero, maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli, destato, si sgridò il vento e disse al mare, taci e calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro, perché siete paurosi? Come mai non avete fede? Notiamo qua, versetto 41. Ed essi furono presi di gran timore e dicevano tra loro, chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Allora la parola timore è lo stesso di Marco 16, versetto 8, fobea, è greco. E vediamo qua che non è tanto una paura tipo spaventati nel senso proprio paura, paura, ma una grande irreverenza per aver visto Gesù che ha appena calmato le acque del mare. quindi tipo, wow, cosa abbiamo visto qua? E avevano questo timore perché avevano visto la grandezza di Dio avendo questa reverenza nel cuore. Vediamo anche una cosa simile, ci sono tanti versetti così in Marco, però giriamo un attimo in Marco 9 e nella trasfigurazione Marco 9, versetto 2 Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni li condusse in disparte e si soli sopra un altro monte e fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. La parve loro Elia, Mosè i quali conversavano con Gesù. Pietro allora prendendo la parola disse a Gesù Maestro è bene per noi stare qui facciamo dunque tre tendi una per te, una per Mosè una per Elia. Versetto 6 Egli infatti non sapeva che cosa dire perché erano spaventati la stessa parola nel greco. E quindi vediamo un'altra volta che vedono la grandezza di Dio e sono presi da questa paura da questo timore di Dio per aver visto la grandezza di Dio. E quindi adesso tornando in Marco capitolo 16 penso che vediamo proprio la stessa cosa. Loro stanno pensando ma Gesù veramente è risorto? Abbiamo visto dentro la tomba dove c'era e stanno andando via tipo ma adesso cosa vuol dire? vuol dire che lui è veramente risorto e quindi questa paura che hanno è questa grande reverenza per aver capito la grandezza di Dio. Perché tante volte nella Bibbia dice che non dobbiamo avere paura però non dobbiamo avere paura però è giusto che abbiamo anche un santo timore di Dio perché Dio è grande è infinito è perfetto e quindi è giusto quando diciamo ci viene svelata la sua grandezza che noi diciamo ok wow Dio è grande e penso che queste donne avevano proprio questa paura avendo capito quello che Dio ha fatto risuscitando Gesù. Bene adesso andiamo avanti versetto 9 Marco 16 Ora Gesù essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana apparve prima a Maria Maddalena dalla quale aveva scacciato sette demoni ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui i quali erano afflitti e piangevano ma essi sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei non credettero dopo queste cose apparve in altra forma a due di loro che erano in cammino verso la campagna anche essi andarono ad annunziarlo agli altri ma non credettero neppure a loro infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato quindi Maria Maddalena vede Gesù come avevo anche visto in Giovanni XX giorno di Pasqua ricordate che Gesù è apparso a lei lei ha raccontato ai discepoli loro invece non hanno creduto come dice qua infatti loro dice che erano afflitti e loro piangevano sappiamo perché perché il loro Signore è morto non c'è più Maria arriva cosa gli dice Gesù è risorto loro cosa fanno continuano a piangere avete notato versetto 10 e l'andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui quali erano afflitti piangevano e si sentendo a dire che era vivo e che era stato visto da lei non credettero siamo così anche noi a volte abbiamo la risposta che stiamo cercando ma non lo riceviamo continuiamo diciamo nella nostra tristezza o quello che è in quei momenti dobbiamo dire no basta dobbiamo credere alla parola di Dio vi leggo un versetto Salmo 43 versetto 5 in modo da non finire come discepoli Salmo 43 5 perché ti abbatti anima mia perché gemi contro o dentro di me spera in Dio perché io lo celebrerò ancora perché egli è la mia salvezza e il mio Dio e tante volte saremo come discepoli e forse avremmo anche sentito la buona notizia che Gesù è risorto però piangiamo ancora per qualche motivo ma in quei momenti dobbiamo dire Tyler anima mia svegliati l'odo del Signore per quello che lui dice è vero questa è la realtà vediamo pure che Gesù è apparso agli altri discepoli quasi sicuramente quelli di Luca 24 sulla via per Emmaus esatto dicono anche loro ai discepoli che Gesù è risorto stessa cosa loro non credono è molto simile a a a Tommaso vero anche se lui era uno dei dodici giriamo un attimo Giovanni 20 vediamo quello che Gesù ha detto a Tommaso quando non ha credito Giovanni 20 24 Gesù adesso è è apparso ai dodici o ai dieci perché erano meno Giuda meno Tommaso ok Tommaso non c'era e adesso diciamo si rivela anche Tommaso versetto 24 or Tommaso detto Didimo uno dei dodici non era con loro quando venne Gesù gli altri discepoli dunque gli dissero abbiamo visto il Signore ma egli disse loro se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato io non crederò otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro Gesù venne a porte serrate si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi poi disse a Tommaso metti qua il dito guarda le mie mani stendi anche la mano mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente allora Tommaso rispose e gli disse Signore mio e Dio mio Gesù gli disse perché mi hai visto Tommaso tu hai creduto poi vogliamo notare qua beati quelli che non hanno visto e hanno creduto Gesù dice che quelli che non vedono ma che comunque credono sono beati e questo è vero perché anche noi io non ho mai visto Gesù con i miei occhi fisici Gesù è in cielo al destro del padre finché non ritorna e noi tutti che crediamo senza averlo visto siamo beati ed è vero perché la fede in Cristo cambia tutto però se abbiamo fede in Cristo abbiamo tutto se non abbiamo fede in Cristo non abbiamo niente però è vero tu stavo vero pure stavo riflettendo prima la parola beato vuol dire felice o benestante in un certo senso e quando non crediamo in Cristo quando non crediamo la parola di Dio a volte possiamo inutilmente portare sofferenza nella nostra vita possiamo essere come i discepoli ma no 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 non voglio credere voglio continuare a piangere non siamo così a volte voglio continuare nella mia incredulità a volte siamo così però se crediamo siamo beati siamo benedetti possiamo star bene perché alla fine la parola di Dio definisce la realtà dell'universo se noi andiamo contro quello che c'è scritto qua ci andrà male perché stiamo andando contro la realtà invece se ci allineiamo per fede con la parola di Dio saremo anche benedetti beati di nuovo niente del falso vangelo della prosperità che se tu no niente la parola di Dio è la verità e facciamo bene porre la nostra fede in essa e saremo come ha detto Gesù beati bene adesso torniamo in Marco 16 prendiamo la versetto 15 leghiamo fino al fino fino alla fine del capitolo poi dice loro andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato ma chi non ha creduto sarà condannato e questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome scaceranno demoni parleranno nuove lingue prenderanno in mano dei serpenti anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male imporranno le mani agli infermi e questi guariranno il Signore Gesù dunque dopo aver loro parlato fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio essi poi se ne andarono a predicare dappertutto mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano Amen quindi ecco il nostro mandato il nostro compito era dato all'inizio ai discepoli però è vero anche per noi e questo compito qual è? esatto predicare il Vangelo come ho anche cantato stasera di predicare il Vangelo a chi abbiamo intorno vediamo che dobbiamo predicare ad ogni creatura penso che qua sia ovvio che stiamo parlando di esseri umani ok non anche gli animali non ogni creatura in quel senso vogliamo sempre prendere diciamo il senso letterale della scrittura ok poi sì diciamo che non ci sono altri versetti che ci dicono che dovremmo predicare alle creature intese animali ok quindi ad ogni essere umano ok vediamo che questo Vangelo dice che chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato ok siamo salvati per mezzo della grazia per fede non per opere come parla di Gennepesini siamo salvati per grazia mediante la fede ok e parla del battesimo dice chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato e tante volte le persone mi chiedono del battesimo se è diciamo necessario per essere battezzato ed è una buona domanda ok però secondo la Bibbia il Nuovo Testamento cosa serve per essere salvato la fede siamo salvati per fede ok qui menziona anche il battesimo però il battesimo non è il mezzo effettivo tramite il quale il Signore ci fa nascere di nuovo non so se mi capite pensiamo al ladro sulla croce ok Gesù cosa gli ha detto oggi sarai sì è sceso dalla croce per batteggiare il ladro no no esatto quindi è sottointeso che lui non è stato batteggiato era anche quando c'era il pastore Damien l'altuna scorsa che ha predicato proprio su quei versetti vediamo che era una conversione autentica vera anche profonda ok o anche Cornelio abbiamo visto in Atti 10 lui è stato batteggiato con lo Spirito Santo prima di essere batteggiato in acqua poi ovviamente dopo si è batteggiato però il mezzo effettivo per diciamo far nascere di nuovo qualcuno non è il battesimo fisico in acqua ok poi viene l'altra domanda allora il battesimo è un opzionale è opzionale è qualcosa che come aggiungi diciamo i sedili in pelle alla macchina aggiungi anche il battesimo alla tua fede ma anche questa è sbagliata vero perché Dio ordina ad ogni persona che crede in lui di batteggiarsi ok non è il mezzo che effettua la nuova nascita siamo chiari però non è neanche qualcosa eh no non mi va tanto io non mi battezzo no Gesù cosa ha detto se mi amate osservate i miei comandamenti e se Gesù ha detto che chi crede deve batteggiarsi cosa facciamo ci batteggiamo fatto semplice ok e quindi uno insegna che il battesimo in acqua effettua la nuova nascita io dico insomma no se uno dice di essere salvato ma rifiuta di essere batteggiato possiamo dire tu devi camminare in obbedienza alla parola di Dio ok quindi è una bella domanda ma in tutto vogliamo sempre rimanere sulla parola ok vogliamo considerare prendere in considerazione tutto quello che la Bibbia dice in questo esempio sul battesimo prendiamo il sommo di quello che dice tutto quanto e poi la nostra dottrina viene sempre da quello che tutta la parola di Dio dice quindi non vogliamo sbagliare né da un estremo né dall'altro ma vogliamo rimanere sempre sulla parola amen poi Dio Gesù lo rende molto chiaro tornando a Marco 16 lui dice chi crede sarà salvato chi non crede sarà condannato lo rende molto semplice giriamo un attimo in Giovanni 3 Giovanni 3 Giovanni 3 16 un versetto che conoscete molto bene leggiamo Giovanni 3 16 ma anche 17 18 poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio non può essere più chiaro di così amén chi crede non sarà condannato chi non crede sarà condannato perché Gesù ha detto non sono venuto nel mondo per condannare ed è vero è venuto per morire per i nostri peccati ok e praticamente la sua morte è quello che facciamo come rispondiamo alla sua morte nel posto nostro determina se siamo condannati o no ok lui è morto e noi se crediamo in lui diciamo non saremo condannati se invece non crediamo saremo condannati semplice mi seguite chiaro ok è così che Gesù l'ha reso se crediamo in lui saremo salvati torniamo in Marco 16 vediamo i segni che accompagnano la predicazione la parola io conto cinque cose scacceranno demoni parleranno in nuove lingue prenderanno in mano dei serpenti una cosa interessante possiamo parlare dopo berranno veleno per dire senza morire ok e la quinta cosa pregheranno e gli infermi saranno guariti ok pensiamo un attimo al libro di Atti stiamo studiando adesso di domenica vediamo queste cose certamente tutto quanto tranne forse bevendo diciamo il veleno senza morire non abbiamo visto quello però anche in Atti 28 vedremo che Paolo sarà morso da un serpente e farà così il serpente muore e il fuoco e Paolo sta bene ok quindi l'abbiamo visto nel libro degli Atti e crediamo che Dio può fare queste cose ancora dobbiamo ricordarci sempre che è Lui che distribuisce che opera queste cose secondo la sua volontà vero se state facendo appunti primo corinzi 12 11 è lo Spirito Santo che distribuisce i suoi doni secondo il suo volere non secondo il nostro ok perché Dio diciamo specialmente quando arriviamo alla guarigione Dio non lo fa sempre vero? leggiamo un attimo in Ebrei 11 parlando degli eroi della fede alla fine del capitolo versetto 35 Ebrei 11 35 le donne riebbero per risurrezione i loro morti quindi proprio come ho visto come ha detto Gesù alcuni si sono risorti poi versetto sempre 35 altri invece furono torturati non accettando liberazione per ottenere una migliore risurrezione altri ancora subirono scherni flagelli anche catene prigionia furono lapidati segati tentati morirono uccisi di spada andarono in giro coperti di pelle di pecora di capra bisognosi afflitti maltrattati il mondo non era degno di loro erranti per deserti monti lo splendore grotte della terra eppure tutti costoro pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede non ottennero la promessa perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi vediamo qua che Dio ha risorto alcuni di questi eroi della fede e lo può fare ancora oggi amen però altri sono morti altri non hanno ricevuto quella guarigione e questi sono gli eroi della fede quindi se uno dice se solo avrai fede quello che vuoi tu succederà questi sono gli eroi della fede io ammetto che manco di fede a volte però stiamo parlando degli eroi della fede e anche alcuni di loro sono morti decide sempre il Signore ok questo non è pure una prescrizione per tentare Dio ok se Dio dice ok i serpenti il veleno non vuol dire che andiamo fuori di qua troviamo il serpente lo prendiamo per mano e diciamo Signore salvami ok questo non è quello che vuol dire la parola di Dio infatti dice che non dobbiamo mettere Dio alla prova in queste cose non dobbiamo tentare Dio ok e poi alla fine questa è sempre una questione di tempistiche ok perché due domeniche fa abbiamo parlato della risurrezione e nella risurrezione per ognuno che ha creduto in Cristo ci sarà una guarigione perfetta amm perfetta completa eterna permanente potrei andare avanti con tanti aggettivi però insomma perfetta ok ma non siamo ancora arrivati a quel giorno Dio può però non lo fa sempre ok penso che questo sia chiaro vogliamo avere equilibrio in ogni cosa però anche mentre riflettevo su questa cosa prima detto tutto questo detto la buona dottrina detto diciamo una buona conoscenza di Dio e come opera non deve mai essere una scusa per non cercare per non pregare per supplicare Dio che lui guarisca ancora che lui interviene ancora ok poi vediamo che questi segni sono sempre quelli che confermano la parola di Dio ok confermano la parola non viceversa ok non è la parola che conferma i segni ok sono i segni che confermano la parola ricordate Nati XIII Paolo sull'isla di Cipro parlava con il proconsole e lui ha visto adesso mi sa che ha beh giriamola un attimo Nati XIII così non cito male il passo versetto 6 attraversata l'isola fino a Pafo trovarono lì un mago falso profeta giudeo di nome Bargesù che stava coproconsole Sergio Paolo uomo prudente costui chiamati a sé Barnaba e Saulo cercava di ascoltare la parola di Dio ma Elimas il mago questo infatti è il significato del suo nome resisteva allora cercando di allontanare il proconsole della fede allora Saulo detto anche Paolo ripieno di Spirito Santo fissando gli occhi su di lui disse o uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia figlio del diavolo nemico di ogni giustizia non la smetterai tu di pervertire le diritte via del Signore ora dunque ecco la mano del Signore e su di te sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo e immediatamente cadero su di lui caligne no caligine e tenebre e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano e lo temo qua versetto 12 allora il proconsole visto ciò che era accaduto questo segno che accompagnava la parola di Dio credete colpito da che cosa dalla dottrina del Signore ok e qui vediamo un'azione questa cosa ci saranno i segni Dio è un Dio di miracoli però afferma conferma accompagna diciamo la portata principale che è la parola la dottrina ok e non dobbiamo mai sconfondere sconfonderci in queste due cose i segni confermano la parola ok allora abbiamo finito il nostro studio siamo arrivati alla fine vi ho visto tutto questo Vangelo ci ha portati dall'inizio la Giovanni Battista il Ministero di Cristo la Croce la Risurrezione e poi il Mandato ricordate che il Vangelo non è soltanto qualcosa che riceviamo ma poi qualcosa che viviamo pure è un messaggio che è per noi però è anche qualcosa che noi dobbiamo condividere con gli altri amen e quindi questo mandato vale anche per noi che noi possiamo andare a predicare ad ogni creatura bene preghiamo Signore grazie per la Tua parola grazie che è potente Signore e vogliamo veramente vivere nella Tua potenza Signore vogliamo che Tu veramente porti avanti il Tuo Vangelo come Tu hai detto Tu edificherai la Tua Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno resistere Signore quindi che Tu possa portare avanti la Tua opera noi vogliamo essere semplicemente strumenti nelle Tue mani Signore quindi darci quelle opportunità di poter predicare il Vangelo di poter condividere la parola di poter aiutare chi ha bisogno Signore vogliamo veramente essere le Tue mani i Tue piedi in questo modo Signore vogliamo in umiltà essere diciamo usati da Te quindi aiutaci riempici del Tuo Spirito Signore senza il quale non possiamo fare nulla Signore rendici quei testimoni efficaci Signore traboccanti del Tuo Spirito Signore quindi riempici Tu guidici Tu ti amiamo e preghiamo tutto questo nel nome di Gesù Amen Signore